Cominciano i preparativi dopo la pandemia che ha chiuso ogni relazione, ogni dialogo, alla quinta edizione arriva di nuovo la festa del pane e della pasta e il premio internazionale alla Sulana d'Oro. Quest'anno di particolare prestigio, un'idea come tutti sapete nata dall'intuizione del mirabile Francesco Foggia che ha saputo coniugare l'impostazione della periferia facendo diventare centrale questa festa che ormai è diventata un evento internazionale a cui partecipano diverse personalità. Nel corso degli anni sono state premiate personalità di grande spicco e anche quest'anno faremo in questo modo. In buona sostanza la Sulana d'Oro nasce dal vecchio baglio ormai di Ruto che è il baglio della Sulana d'Oro che appunto si chiamava così perché all'interno c'era un loggiato centrale nel quale venivano filtrati i raggi solari e dal latino solarium che poi nell'evoluzione del linguaggio è divenuto Sulana. E quindi da qui la Sulana d'Oro che tende a premiare quelle persone che si sono caratterizzate per impegno, dedizione e passione. Questi sono gli elementi fondanti e fondamentali sui quali si esprime un viatico per dare lustro e significazione anche nel mondo dove hanno sviluppato il proprio talento e quindi attraverso questi raggi solari che sono segno della bellezza. Noi faremo questa manifestazione per dare proprio dignità al talento. Questa è una festa che ormai arriva alla quinta edizione e quindi saremo insieme per gustare anche delle tipicità siciliane che notoriamente vengono poste alla delizia del palato che la Sicilia è cultura, arte e anche sapore. Sapore che va oltre ogni possibilità di poterlo gustare perché se non riusciamo a proprio a gustarlo non ne possiamo nemmeno parlare. E quindi questa vetrina internazionale sarà rappresentata nelle date del 7, 8 e 9 di agosto nel caldo anche delle serate siciliane insieme ad artisti che sono stati coinvolti dall'organizzatore della manifestazione Francesco Foggia e avremo comici, persone rappresentanti della cultura insomma sarà uno spettacolo fruibile sia dal bambino che dall'adulto. Siamo oggi a spezzare la bellezza di questo artigianato d'arte che nasce dalla tradizione della borgata sin dalla notte dei tempi e oggi ho visto con grande stupore e meraviglia le modalità di realizzazione di queste veramente delle opere d'arte che sono realizzate con una tecnica e un talento veramente importante. Quindi la borgata è anche questo.